Le tecnologie che integriamo negli interventi psicoterapeutici a Sant'Agostino sono principalmente la realtà virtuale e il biofeedback. La realtà virtuale ci permette di ricostruire attorno al paziente che indossa un visore un ambiente a 360 gradi e la utilizziamo per le condizioni di fobia specifica perché permettono di esporre il paziente all'interno dell'ambiente virtuale temuto, quindi che corrisponde allo stimolo fobico. Il biofeedback invece permette di rilevare l'attivazione psicofisiologica, ovvero la risposta corporea del paziente, per aiutarlo poi nella gestione dei sintomi che gli causano sofferenze. Al percorso di terapia realtà virtuale di Sant'Agostino si accede pronotando un primo colloquio con realtà virtuale. In questo incontro il terapeuta raccoglie la domanda clinica del paziente e valuta se l'intervento di realtà virtuale è coerente alla domanda proposta ed efficace per gestire la situazione. In seconda battuta viene offerta una prima prova di visore di realtà virtuale per valutare eventuali difficoltà da parte del paziente nell'utilizzo di questa tecnologia. Avere un terapeuta a supporto di questo percorso è necessario perché l'intensità dello stimolo fobico utilizzato nella terapia realtà virtuale deve essere modulata in base alla risposta del paziente. La figura del terapeuta permette di gestire il processo e fare in modo che l'esperienza sia per il paziente una desensibilizzazione dell'elemento fobico piuttosto che un'ulteriore traumatizzazione verso lo stesso. La realtà virtuale è quindi uno strumento gold standard per la gestione delle fobie specifiche. Questo significa che la letteratura scientifica ha evidenziato come sia la tecnica più efficace e con maggiori risultati per la gestione di questa condizione clinica.